E dopo la Geiser, ingegnere D'Ambrosio, restiamo ancora sulla sicurezza ospite di Trend, la massima espressione istituzionale in materia, la dottoressa Donatella Volino, dirigente e direttore dell'Inail per la provincia di Salerno. Non è partito il bando Inail di 60 milioni per le piccole e medie imprese che decidono di aumentare cultura e livelli di sicurezza nelle aziende, 60 milioni di euro in Italia, 5 milioni, 6 milioni di euro per la campagna. Si possono già inoltrare le domande, ma con la procedura sportello chiuso è immaginabile che lo sportello si chiuda prima del previsto febbraio. Dottoressa Volino, a chi è diretto il bando? Quali chance poi ci sono per le imprese che non ce la fanno a presentare, che non riescono a rientrare con il proprio progetto? A chi è rivolto? I destinatari sono ovviamente le imprese, il sistema delle piccole e medie imprese. Tra l'altro nel graduatorio, meglio dire nei punteggi che devono essere acquisiti dagli aziende per poter partecipare alla procedura sportello, proprio la dimensione aziendale, più è piccola l'azienda e più punti si hanno. Quindi meno dipendenti ci sono, più punti si hanno, al contrario di quello che potrebbe sembrare la logica. Perché, ripeto, la logica è quella di aiutare anche il sistema delle piccolissime imprese a fare sicurezza sul lavoro. Dico perché opportunità per l'azienda? Perché sono tre tipi di finanziamenti, tre filoni, diciamo così, di finanziamenti. Si possono presentare o progetti di investimento o progetti di formazione e qui sulla formazione sarebbe effettivamente tanto da dire quanto sia necessario ricordare al lavoratore stesso, nonché agli stessi datori di lavoro, attraverso attività di formazione e la sicurezza è importante, che bisogna fare sicurezza, e bisogna attenersi, diciamo così, a quelle che sono le regole della sicurezza sul lavoro. Perché la sicurezza non è altro che un comportamento, quindi più si diffonde la cultura della sicurezza anche attraverso attività formative e più abbattiamo il rischio degli infortuni. E poi un terzo filone di investimento è quello della responsabilità sociale di impresa. Ecco, su questo anche qui potremmo aprire veramente un tema così complesso, visto che quando si parla di responsabilità sociale di impresa si parla di impresa etica, si parla di qualità, ambiente e sicurezza. Quindi prossimi bandi, chiaro che questo primo bando, questo assaggio, perché noi lo chiamiamo un assaggio, quello del 2010, tra l'altro non abbiamo voluto perdere l'annualità 2010 e abbiamo bandito anche a fine dicembre, sono a metà dicembre, consapevoli del fatto che le aziende dovevano correre per poter presentare i progetti. Però ripeto, è un assaggio perché nel 2011, pensiamo entro la primavera del 2011, sarà rifinanziato, saranno rifinanziati ovviamente per ogni regione, si parla già di almeno duplicare le risorse per poi nell'altra annualità ancora triplicarle, quindi questo è un'opportunità per le imprese. Quindi tutti coloro che non riusciranno questa volta, trattandosi di procedura sportello, a presentare il proprio progetto ed essere quindi finanziati, ci sarà la seconda opportunità, nonché la terza. Quindi l'invito al sistema delle imprese è di ragionare intorno ai progetti della sicurezza in una delle tre aree di cui parlavo prima, quindi investimenti, informazione e responsabilità sociale di impresa. Per presentarvi, volevo giusto ricordare che parliamo del 75% a fondo perduto del finanziamento dell'intero progetto.